Bentornati al canale Amo gli italiani, con le ultime novità di oggi. Una ballerina di ballando con le stelle ha condiviso con i fan il dolore per la sua perdita. Ecco cosa ha scritto.I personaggi del mondo dello spettacolo, purtroppo, non sono immuni dal vivere determinate situazioni. Anche loro, proprio come tutti gli altri, possono trovarsi in difficoltà. Lo sa bene una ballerina di ballando con le stelle che, di recente, ha dovuto affrontare una dolorosissima perdita. La diretta interessata, in questi giorni di festa, ha deciso di dedicare un pensiero speciale alla persona che ha perso. Per farlo, ha utilizzato le storie di Instagram. Le sue parole, altamente toccanti, non hanno potuto fare a meno di emozionare. Non è la prima volta che affida ai social network tale sofferenza. Il dolore della star di ballando con le stelle, parole dolcissime per la mamma. C'è una ballerina professionista di ballando con le stelle che, negli ultimi mesi, ha dovuto imparare a vivere con una grave perdita. La mamma, dopo aver lottato contro una brutta malattia, ha perso la sua battaglia. In famiglia, tutti credevano che l'avrebbe fatta, ma il destino è stato molto più crudele, pensavo l'avresti vinta, pensavo avremmo avuto più tempo. Si tratta di Alessandra Tripoli che, con il genitore, condivideva un rapporto davvero speciale. L'artista è un punto di riferimento fondamentale per il programma di Millie Carlucci. La sua professionalità, infatti, le ha permesso di stare accanto a numerosi concorrenti. Ha seguito personaggi come Ettore Bassi, Morgan e Lino Banfi. La diretta interessata, travolta dal dolore, ha scritto delle parole dolcissime per la sua mamma. In occasione del 30 dicembre, il giorno del compleanno della donna, ha immaginato uno scenario diverso e decisamente più roseo, mi avresti chiesto di farti bella, avremmo scelto un abito insieme e avremmo riso per i suoi gusti appariscenti. Alla fine, avresti comprato qualcosa di elegante e semplice, ma ti avrei permesso di indossare degli orecchini esagerati. Ricorda con tanto affetto tutti i momenti passati insieme. Era bravissima a organizzare simili eventi ed è rimasta nel cuore di tantissime persone, sarei rimasta rapita da quanto ti ama la gente rinnovando l'orgoglio di essere tua figlia. Purtroppo, ciò non è stato possibile. Alessandra Tripoli vorrebbe solo poterla riabbracciare di nuovo, cosa darei per stringerti un'ultima volta. Al momento, la ballerina può contare sul supporto emotivo di Luca Urso e del figlioletto Liam. Il piccolo si è aggiunto alla famiglia nel 2021, dopo ben 20 ore di travaglio. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.